La nuova edizione del Pescara Jazz in programma dal 9 al 19 luglio prossimi al Teatro d'Annunzio e al Porto Turistico Marina sarà tutta italiana con alcuni eventi particolarmente attesi come la prima assoluta di Roy Paci con Enzo Favata e concerti di Paolo Fresu, Aire Stango con Ralph Tauner, Claudio Filpini e Maria Pia De Vito. Insieme a questo presentiamo anche molti artisti abruzzesi perché abbiamo ritenuto importante, in un momento di grande difficoltà del settore dello spettacolo dal vivo, abbiamo ritenuto importante investire risorse sul territorio e quindi dare una mano ai musicisti, agli artisti e lavoratori abruzzesi che hanno avuto dei momenti, dei mesi di stop. Quindi questo ha testimonianza del fatto che il settore dello spettacolo è in grande difficoltà e merita attenzione, merita aiuto per poter riprendere il suo messaggio di aggregazione sociale e di sviluppo della persona umana. Il tema della nuova edizione sarà Bread, ovvero il respiro, di cui necessita il settore culturale italiano dopo la crisi legata all'emergenza Covid e di cui ha scelto di farsi portavoce il festival, la cui direzione artistica è stata affidata ad Angelo Valori. Il virus ha chiaramente condizionato tutto lo svolgimento della manifestazione a partire dalla sua ideazione e programmazione. Per esempio non ci saranno gli artisti internazionali, soprattutto statunitensi, perché non possono accedere nel nostro paese in questo periodo. Quindi sarà un festival che presenterà i migliori musicisti italiani, a partire da Paolo Fresu, per arrivare a Gianluca Petrella, per arrivare a Javier Girotto, che è un argentino ma ormai naturalizzato italiano. Avremo un altro grande ospite internazionale, residente nel nostro paese da Tantiani, che è Ralph Tauner, che tutti quanti ricordiamo il famoso gruppo degli Oregon. Abbiamo Daniele Di Bonaventura, abbiamo Roberto Gatto, abbiamo il meglio del jazz italiano.